Il Gela Calcio rimane una ricchezza per la città e incarna l'immagine di quello sport che vuole rialzare la testa al pari di tutta la società civile. Non possiamo permetterci di spegnere tutti gli entusiasmi sani costruiti sinora. Lo ha dichiarato il sindaco di Gela Domenico Messinese dopo aver appreso delle drastiche decisioni del CDA della società di Angelo Tuccio. Ci associamo all'amarezza del presidente per l'atmosfera negativa ma minoritaria che si è creata attorno alla vicenda dello stadio, ha continuato il primo cittadino. Ma l'amministrazione comunale non sarà il commissario liquidatore dei Biancazzurri perché continuerà a navigare con la barra ferma e dritta nelle acque agitate di chi vuole solo mettere in difficoltà, a chi con spirito costruttivo, come il presidente Tuccio, ha dimostrato efficienti capacità organizzative e vera voglia di riscatto. I lavori per l'adeguamento dello stadio continuano, ha concluso Messinese, soprattutto in vista di una gestione efficace della struttura, contrariamente a quanto avvenuto sinora.